Demetus Demir si spiega, non posso fermarmi senza affrettarmi, mi stanco troppo presto. Demetus Demir, felicemente sposata con Ushan Koch, si è raccontata. La famosa attrice ha detto, non potevo fermarmi senza correre. Mi sono sentita stanca all'inizio, ma ci ho provato davvero. Parlare. Demetus Demir ha parlato della sua carriera e di se stesso. Demetus Demir, che ha sposato il cantante e attore Ushan Koch lo scorso anno, ha parlato con Vogue. Demetus Demir ha detto, non potevo fermarmi senza affrettarmi. Mi sono stancato molto presto, ma ci ho provato molto. Parlare. Demetus Demir parla di me. Demetus Demir ha dichiarato, i rischi che ho corso e l'incertezza mi hanno portato a questo punto. C'è ancora molto da aspettarmi. Non credo di esserci mai stato, la parte più emozionante del viaggio. Non la destinazione, quindi mi godo il momento. Parlare. La famosa attrice ha dichiarato, certo che sono molto felice, ma dietro c'è una grande responsabilità. Usa la tua affermazione. La famosa attrice ha dichiarato, certo che sono molto felice. La famosa attrice ha dichiarato, certo che sono molto felice. La famosa attrice ha dichiarato, certo che sono molto felice. Grazie a tutti.